Musica Sono le 2-20 di domenica 11 agosto E siamo in corso dei martiri Evidentemente, come vedete, c'è ancora un'interventa Un mercato E le autorità proposte non intervengano Come vedete, vicino all'autolavaggio E nella sede stradale abbiamo delle mercanzie Che stanno per essere caricate Poi ci sono le macchine che si stanno affondando A che se mapo? Poi ci sono le macchine che si stanno affondando Poi ci sono le macchine che si stanno affondando